Musica Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Allora in questo video faremo la try on haul di Shane Penso che sia l'ultimo try on all'estivo Perché il prossimo sarà verso metà settembre E quindi prenderemo poi altre cose più invernali Prima di iniziare vi diciamo il codice sconto come sempre Che è questo qua Q2CM per avere il 15% di sconto Su ordini superiori a 29€ Quindi iniziamo subito con il video Perché non vediamo l'ora di farvi vedere altre cose E quindi iniziamo Allora inizio, inizio io Allora come prima cosa che vi mostro Ho preso una gonna nera Perché già ce l'avevo in realtà Però mi piaceva tantissimo È un altro tipo questa ovviamente Questa gonna ha tutti questi strati Che è molto volante Quindi mi piace un sacco perché Fa molto eschivo Semmai anche da mettere Qui non ha il portacintura Però semmai si potrebbe anche mettere comunque la cintura sopra Ma secondo me è carina così E dentro in realtà è un pantaloncino C'è il pezzo sotto Qua sotto in realtà c'è un pantaloncino Però vabbè alla fine è una gonna Vista così Sì, è molto carina Passiamo alla seconda cosa Allora io ho preso un set di tre cose C'è il costume e il copy costume Allora vi faccio vedere Prima il copy costume Fatto così È tutto colorato floreale Sul bianco Bianco e celeste E poi il costume è così Sopra è bianco semplice Allora questo è il sopra Mamma mia, veramente la genia Mi fanno vedere Niente, si allacciano così normalmente E poi più a questi lacci da intrecciare E è un po' imbottito questo Questo è un po' rigido Mentre la motanda è grande È vita alta Così Ma si può regolare qua? Ah Non l'avevo visto Si può regolare Si possono fare i biocchi Si E niente È fatta così E adesso vedete come mi sta Io invece ho preso due cose In realtà le vendono separatamente Infatti non è un set Ma sono due cose Ve le faccio vedere in sé Perché è il completo Sarebbe un completo Sarebbe un completo Però si può comprare sia In sopra o in sotto Sì E così potete Probabilmente l'hanno fatto anche per la taglia Cioè in realtà puoi scegliere Il pezzo sopra M E il pezzo sotto S Non so Come vi torna meglio E quindi ve lo mostro È stra carino Sicuramente si tratta di un set di camicia E camicetta colorata E pantaloncino Azzurro Sulla arancione rosa E giallo Sulla arancione autoestivo Guardate Questo qui Non so se qualcuno l'ha mai visto È fatto come quello di Zara Ma quello di Zara costa tipo 35 Barra 40 Insomma tutto veniva tipo 70 euro E qui niente L'ho trovato su Shane Costa stra poco E quindi adesso vi faccio vedere Allora Il pezzo sopra sarebbe Questa camicetta Con il colletto Proprio sul giallo Arancione E il rosso E si abbottona tutto qua E le maniche vanno Sull'aprirsi Le maniche sono più ampie Rispetto alla manica iniziale E poi c'è il pantaloncino E poi c'è il pantaloncino Che è ovviamente Abbinato Quindi i colori sono gli stessi Fatto così Cioè io non vedo da di usarlo Mi giuro Guardate E adesso vi mostro come è mista Non l'ho mai provato Quindi speriamo bene Ancora non abbiamo provato le cose Perché ci è proprio arrivato oggi E ci sono subito messe a fare il video Esatto Perché poi io questa cosa L'aspettavo un sacco Anche perché io l'avevo vista su Shane E l'avevo vista che esauriva Soprattutto la taglia più piccola Le taglie che facciamo vedere Sono tutte le più piccole Quindi la taglia che abbiamo preso S o XS Dipende di quella che era E questo qui tipo finiva Infatti XS finiva sempre E fortunatamente l'ho trovato Cioè Sono contenta per questo Passiamo alla terza cosa Che è di nuovo un copercostume C'è ancora un altro a farvi vedere Quindi Hai un copercostume rosa Coloreale Sempre con tutti i fiori E' fatto tipo A vestito aderente Allora il copercostume E' fatto così E' fatto tipo Come un vestito attillato E poi qua Ha tutto Un elastico Che da in fondo Si può stringere Che fa lo più corto Bello E poi è tutto E poi si allaccia così Rosa e rosso Colori perfetti Dell'estate E niente E' super morbido E leggero Speriamo che Anche perché essendo un copercostume E' proprio un copercostume Quindi non è che Copre così tanto Fata Fata Poi ci sono dei copercostumi diversi Tipo questo qua Che vi ho fatto vedere ora E' tipo un po' trasparente Poi quegli altri florali Sono più coprenti Si Ma è più camiciato Cioè Gli altri sembrano più camici Invece questo è proprio copercostume Io invece ho preso quest'altro Non è proprio un copercostume completo Quindi una specie di vestitino Ma è solo il pantalone Non lo so L'ho visto Mi è piaciuto un sacco Perché ovviamente È questo pantalone bianco Ma come vedete È super trasparente E fatto ovviamente apposta Per andare al mare Quindi a desistere il costume sotto Non importa Esatto È un pantalone lungo Molto leggero Quindi anche se lo indossai d'estate Non è che fa caldo E poi qua Agli spacchi Si apre No l'avevo visto E questo Fa ancora più leggero Già Non vedo l'ora di usare Sono stupendi E poi magari sopra Con un toppettino Si va al mare E niente Quindi questo Adesso ve lo faccio vedere Come mi sta E proviamo Allora Questo è tipo Un outfit Questi sono i pantaloni Sopra ho messo sempre Un toppettino di Shane Se volete Vi lascio qua Il codice E potete utilizzarlo O con un toppettino Come questo Oppure mettendo direttamente Tipo il costume E mettendo solo il pantalone Però vabbè Per uscire così Secondo me È carino anche così Adesso vi mostro meglio I pantaloni Terzo Copicostume Però può essere usato Anche come maglietta Visto che questo È più coprente È tipo una camicetta Che puoi mettere Anche sotto Un top E poi magari questo sopra E poi le metti Tipo un top E un pantaloncini di jeans E poi questo sopra O se no Per andare proprio al mare Con il costume sotto Sì E niente È fatto così Nero Con i fiori Le piante E niente Davanti non si può chiudere Rimane aperto Ma tanto è bello così E adesso vedete come mi sta Io ho due cose Non so cosa fare Vedete prima Ah vabbè ho scelto quest'altra Allora Quest'altra invece È un vestito nero È un po' da sera Non è da uscire così Per andare proprio in spiaggia Lo vedo un po' più Come uscita serale E praticamente È un monospalla Ci siamo stupite Del vessuto Molto morbido Quindi non dà fastidio Anche per l'estate Vabbè Magari può sembrare caldo Tu ho un vestitone lungo Invece Arriva fino alla decima Che è regola Quindi non so Non lo so Non mi ricordo dove arriva Comunque questo vestito È tutto nero Super morbido Fresco E niente Così a monospalla Infatti questa parte Va di qua Insieme a quest'altra E fa questa specie Di buco Mi piace un sacco Non vedo l'ora di metterlo Ho solo paura Che magari Ha piaciuto a me Sì Ho paura solo Che magari avanza un po' Perché secondo me Questi vestiti Deve non stare Proprio attillati E Metti ci sarà un po' grande Lo stringeremo Sì Ma non penso ci sia problemi Ho preso una maglietta Sempre un po' estiva L'avevo vista Che era una maglietta grande Però Non pensavo fosse così grande È proprio È un extra small Però Essendo pure un extra small È un po' grande No ma perché Secondo me Non hai visto Che era over style Eh sì Ci sta E niente È questa qua Con scritto Palm spring Allora Vi diciamo perché L'ha presa Vai dirlo perché Ha preso delle cose Perché adesso Stiamo guardando Outer Banks E lei l'ha finito Io lo sto finendo E abbiamo preso delle cose In stile Outer Banks Come tipo Te hai preso Io no Questa è la maglia Con questa scritta È un po' grande Nonostante sia L'extra small Però vabbè È fatta così È proprio un modello grande Non lo sapevo E niente Adesso la proverò E vedremo un po' Come mi sta Ok Io passo A un'altra cosa Forse come È molto carina E È un'altra conna No Praticamente io Proprio odiavo le gonne Ma Come nel profondo Il cuore Non si mettevano mai No E poi Boh Mi è spuntata Questa voglia Ed è la stessa Conna Che vi ho fatto vedere Prima Nera Ma in versione bianca Infatti mi sembra Che l'ho presa Dallo stesso Dallo stesso ID Tipo Solo Di colori diversi È lo stesso modello Sì Brava E anche questa Come quell'altra nera È tutta A strati Forse questa Che di più Sembra O forse Perché bianca È bianca E niente Anche questo In realtà Sarebbe Dentro C'è la parte A pantaloncino Quindi secondo me È essenziale Questa cosa Sì Perché Perché la gonne È corta E se fosse Stare senza pantaloncino Ah Poi io le amo Tutte corte Cioè come Si allungano Secondo me Non essendo nemmeno Un po' così Tanto alta Ci fa ancora più basso Ci accorciano Invece così No Non mi piace di più Così Ci slaggia Esatto Tessuto resistente Cioè Sembra bello Sì È un po' spesso Ma perché ci sono Tanti strati Sì In realtà Se abbiamo Cioè se andiamo a sentire uno a uno È un testuto normale Non mi dovrei riprovarla E niente È extra small Perché è la più piccola Io ho altre due cose E adesso Ho le due cose Stile open dance Non è uguale Cioè È completamente diverso Però boh Lo stile Stile Allora Ho preso Allora ho preso Questa maglietta Pensavo fosse un top Ma vedrai Mi sta più come maglietta A me È È un extra small Ma mi starà così a maglietta E c'è scritto South City North Carolina Questa è un po' di moda Comunque I tuppettini Sul marrone Cioè Il colore marrone Anche su Shane Quelli che sicuramente Tutti avete visto Quelli con la scritta Brillantinata Con scritto Honey Sì 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 Ogni volta che apro Shane Lo vedo Sì E niente Questo è il top Adesso vedete come mi sta L'ho provato questo top In realtà pensavo che mi stasse più come un top Quindi che si vedesse un pezzo di pancia In realtà penso che dovrebbe stare così Solo che a me sta un po' grande L'ho un po' stretto dietro Quindi Se voi avete una media Va bene la S Perché io ho la S Ma l'ho stretta E poi mi sta così lunga E così a voi vi sta come un top Invece a me mi arriva Cioè un po' sotto E diventa così Una canottiera Tipo Sì Vabbè però è bellino anche così Allora Questo qua È un pantaloncino In grigio L'ho visto Perché sembra Una specie di gonna Mi sta così Signora Una delle danne Ora È un po' grinsuoso Perché comunque Durante la spedizione Probabilmente si sarà un po' Astropicciato Ma noi adesso Laviamo le cose Le stiriamo E poi dopo Quando le indossate Sono tutti a modo Cioè Sembra più una gonna Che un pantaloncino Infatti questo è l'effetto Che deve dare Ma in realtà È proprio un pantaloncino Infatti dietro Probabilmente si vede di più Ci sono qua I laccetti Per regolare appunto La misura Perché più stringo Più ovviamente Si stringe E l'unica cosa Spero che non sia Troppo lunga Però per il resto Mi piace tutto Anche perché C'è il testuto È stravolvido Sì Ma io adoro E niente È grigio Perché di grigio Sono un pantaloncino In questo outfit Ho utilizzato Due cose di Shane Questo Che ho preso adesso E ve l'ho fatto vedere E questo qui Che ho preso Le scorse volte Se volete Lascio il codice Anche di questo O il link In descrizione Non so se il codice Lo lascio qui Se non c'è Vuol dire che è in descrizione E anche questo Molto carino Quindi se volete Vi consiglio anche questo Anche da mettere insieme Cioè Questi sono proprio Outfit Shane Sono stra carini E niente Ve l'ho detto Così se a qualcuno Interessa anche questo Sapete che è di Shane E potete prenderlo Sempre utilizzando Il nostro codice sconto Adesso faccio vedere Il patrocino Un'altra cosa Ho preso un altro Top marrone Diverso Molto diverso E questo Il tessuto È un po' più spesso Forse fa un po' caldo Il vestito Però essendo talmente Corto e piccolo Può anche andare Sì E niente È fatto così È un top marrone Che si allaccia Qua al collo Dietro È così semplice Tessuto morbido Tessuto morbido Un po' più spesso Però è morbido Può sembrare Tipo quelli che pizzicano Invece no Assolutamente Com'è Vero Vero Sì Cioè dal vivo Sembrare Quello pizzica Sicuro In realtà è stra morbido Sì E niente Questo è il toppettino Vedo l'ora di provarlo Ultima cosa Che ho scelto Allora Vedete questo toppettino Questo toppettino Che ho ora indosso È il toppettino Di Bershka E l'ho preso Sia marrone Che bianco Quando c'erano Quando erano Nitti a risaldi Ma in realtà Non era nel saldo Perché già costavamo E niente Allora sono su Shane E l'ho trovata Anche di un colore Che in realtà Da Bershka non esiste Perché c'era solo Marrone, bianco O nero E quindi L'ho preso blu Perché boh Mi piace questo colore E spero solo Che non sia grande Perché rispetto Al toppettino Che già ho È un po' più grande Però ci sta Che mi sta comunque Il tessuto È morbido E poi vedete Com'è il colore Super Molto Costa meno di Bershka O no Questo costa meno di Bershka Però La struttura È uguale Vedete Così col col E tutto Quindi niente Provo anche questo E niente Così ho anche questo colore Un'altra cosa che ho preso È una mutanda Di un costume Ho preso soltanto La mutanda Perché mi serviva Una mutanda Il costume in era Piccola comunque E niente Questa è Sì infatti Mi piace perché È sgambata Come ci piace a noi E è piccola Non grande Così la posso mettere Su tutti i costumi Che a volte mi arrivano Tipo mi piace un costume Mi arriva Ma la mutanda È troppo grossa E quindi Ho preso questa Così l'abbino Nei costumi Dove non mi piace la mutanda Extra small E questa è segnata Come brasiliana Però mi sembra Anche un po' di più Di brasiliana Non parla Sì adesso vi faccio vedere Con un costume Che ho già io Come sta questo E come l'ultima cosa Ho preso dei pantaloncini di perle Li cercavo da tantissimo E voi mi avete consigliato Anche sotto il video Dei gigli Dove trovare Questi pantaloncini Alcuni hanno detto Shane Alcuni hanno detto Bershka Ma li avevamo già cercato E li sono trovati Oppure la subdued Ma noi la subdued Dove andare a Forte dei Marmi O a Firenze Sennò qua A Livorno E a Pisa Abbiamo i rivenditori Tipo Però non hanno tutto Ovviamente Sono così Stroficciati Non per caso E sono fatte così A vita alta Spero che Mi valino bene dietro Sono così Hanno il portacintura La cintura È questa La trovate già dentro La trovate già dentro Però se avete una vostra cintura Come noi abbiamo Le nostre cinture Di Louis Vuitton Ci possiamo mettere quelle O altre Direttamente questa Che si trova Dipende Poi provo E vedo cosa ci sta meglio Insieme a questo Mi hanno dato un bottone in più Si si rompe Si si stacca Si c'è il bottone Meno male Perché a volte Si si stacca Al bottone La signora così E adesso li provo Non vedo l'ora troppo Di provare le cose Perché questa volta Mi sono pensando Tutto ciò che ho preso Allora Ho provato questi pantaloni Purtroppo non mi stanno E anche perché sono basse Vedete I pantaloni stanno qua Invece Secondo me Deve non arrivare proprio qua Infatti se ero più alta Mi sta una meglio La taglia è la più piccola Mi sta anche un po' lente di vita E niente Questo è da consigliare A una alta Lo consiglio perché È alto Più di 1,60 Vi dediciamo il nostro police sconto Che questo qua Fate uno screen 3, 2, 1 Ecco noi 3, 2, 2, cm Per il 15% di sconto Per il 15% di sconto Su ordini superiori A 29 euro Fidatemi 29 euro sono pochissimi E penso che Su Shane 3 secondi Vanno via E quindi niente Questo 3 o no è finito E adesso salutiamo 3 persone Abbiamo scelto Nei commenti Dello scorso video 3 persone a salutare Se volete essere anche voi Salutati nel prossimo video Guardate i commenti E lì c'è scritto Cosa dove fare Poche parole Dovete seguire i nostri profili di Instagram Che sono questi qua? Sono questi Camilla De Matilde Matilde Bonta Qualacca E Camilla Bonta E adesso salutiamo le 3 persone La prima persona che salutiamo è Beatrice Ciao Beatrice Il suo nick di Instagram è Beatrice Netta Bassa Bonomi 9 Ciao La seconda persona è Rihanna Ciao Rihanna Ciao Rihanna E il suo nick è Rihanna Barri Ciao La terza è Niki Ciao Niki Ciao Niki E il suo nick è Niki Netta Bassa Vertucci Ciao Ciao Quindi niente Il video è finito Spero che vi sia piaciuto Lascia un like Soprattutto le cose che abbiamo comprato E come ci stanno Se fate degli acquisti Mi raccomando Usate il codice sconto Che ci teniamo Per tutte le informazioni Li trovate nell'info box Tutti i link Tutti i link Non l'abbiamo detto Non se l'ha detto Eh non se l'ha detto Vabbè l'avremmo scritto Qualche parte prima Tutti i capi Che abbiamo fatto vedere Vi lasciamo il link In descrizione Li trovate Metto tipo Gonna nera Link Mettete like Commentate Iscrivetevi al canale Attivate le notifiche Nel nostro canale Per non perdervi I prossimi video E noi ci vediamo al prossimo Ciao 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 Grazie a tutti.